Ciao a tutti da NoWonglobo, benvenuti ad un nuovo video di Shodan e questo è uno dei miei team più recenti con Winsicott con un moveset particolare perché ha, ripeti, retromarcia, paralizzante e forza lunare Tornadus che ha onda calda non ha foca al colpo e ha troppo forte e non ha nemmeno privazione Raiko col colpetto assalto Crodan poi che è jolly, cioè è allegro perché per andare più veloce di Rotom Wash diciamo che questo è l'unico vero obiettivo e che rimane comunque forte lo stesso anche con questa natura Etran offensiva utilità e Mega Shizor che però è monoattacco perché ha solo pugno scarica e ha scacciabruma il mio avversario o è uno furbo o è uno sproveduto perché utilizza tre Pokémon overused mentre altri tre qualcuno dedenne non so nemmeno se... cos'è Neverused mi sembra che sia Froslass forse è... Rarit... 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 Mi aspettavo che il mio avversario iniziasse con Froslass decido di utilizzare l'inverti volta rompere il foc al nastro e mandare in capo Shibdram e mi aspettavo questo Froslass che avesse... pensavo che avesse le punte non capisco che tipo di Froslass sia ne approfitto per mandare in campo Winsicott e utilizzare ripeti ma l'avversario prevede decido di mandare Etran per qualsiasi cosa che decidesse di fare l'avversario e dato che mi aspettavo che mandasse in campo Espeon decido di spammare Lava Sbuffo quando ho visto Introforza all'inizio mi è venuto un panico totale perché ho detto... ho pensato oddio... è introforza... è introforza... fuoco... vi giuro io ancora non ho capito questo D-D-N che abilità ha D-D-N? non... mi sta... mi ha paralizzato Shizur non riesco a fargli 2 hit KO con... con un più 2 pugno scarica danno neutro io veramente non me l'aspettavo che potesse un Pokémon che potesse avere delle utilità tra parentesi magari potrei essere io che fuso in quel momento e... comunque... comunque... lasciando perdere questo D-D-N che mi ha dato un attimino di fastidio veramente... ed è stato purtroppo fondamentale per il mio avversario decido di utilizzare Tossina perché non so questo... questo Altaria che tipo di Altaria sia decido per qualsiasi mossa che decidesse di fare di mandare in campo Raiko decido di utilizzare Inverti Vault per avere maggiore previsione decido di rimanere in campo perché non mi aspettavo che utilizzasse Fuocobomba perché era troppo ovvio avendo il mio Etran in gioco e l'avversario ha previsto molto bene ha previsto purtroppo il mio Shizor è KO ne approfitto di questo Froslass non ho ben capito che diavolo se ha o no punte a quanto pare non le ha è offensivo e quindi decido di subito di mettere le rocce e poi di spammare e poi di spammare la Vasobuffo purtroppo ha corpo funesto e purtroppo mi disabilita l'unica mossa che ho ovviamente decido di ritirare e mandare in campo Etran utilizzare Provocazione e questo perché Clefable senza il mio Shizor è veramente un problema riuscire a mandare giù Clefable senza il mio Mega Shizor non capisco perché io abbia deciso di sacrificare Etran veramente non lo capisco perché gli ultimi due Pokémon del mio avversario sono di tipo Fata come Altaria è Clefable e mi serve un Pokémon di tipo acciaio quindi non capisco della mia scelta azzardata veramente l'avversario decide ovviamente di mettere in campo Clefable io decido di paralizzarlo per avere un po' di Axe dalla mia parte non si sa mai e decido poi di utilizzare Retromarcia e mandare in campo Raikon perché è l'unico che potrebbe attutire un colpo di fatto è quello che succede ma sfortunatamente mi abbassa subito di uno l'attacco speciale questo è un problema perché adesso questo Clefable ha calmamente e non so veramente come riuscire a fermarlo decide di utilizzare Invertivolt perché pensavo che riutilizzasse calmamente ma a quanto pare non lo utilizza decide di sacrificare Croden ma fortunatamente paralizzato mamma mia che fortuna però non non so quanto sia fondamentale non ho uno switch in favorevole e decido di utilizzare acquaggetto e sacrificare il mio Croden che ha già fatto fin troppo perché è riuscito a mettere K.O. Clefable decido di sacrificare Raikon speravo che fosse in una situazione di confusione ma purtroppo non si confonde e riesce ad attaccarmi tre volte quanto serve mamma l'avversario è stato veramente bravo non sapevo se era uno sprovveduto oppure no ovviamente è evidente che non è uno sprovveduto magari voleva giocare un pochettino for fun e e io ci sono diciamo cascato eh subito perché ha fatto più o meno il suo gioco ed è stato comunque molto bravo ed è stato comunque molto bravo ehm se la lotta vi è piaciuta cliccate il mi piace se volete iscrivervi al canale iscrivetevi e ci vediamo tutti a un prossimo video ciao a tutti da Novo Anglob ciao